Chiusura almeno fino a venerdì, se il caldo dovesse continuare cosa accadrà a terra? A questa domanda credo che nessuno sappia rispondere, intanto, primo elemento. Ma la cosa ancora più grave è che, faccio io una domanda a voi, ma questo caldo si poteva prevedere? Mi pare che tutti gli scienziati, e già la scorsa estate, avevano detto che ci dovevamo abituare all'estate caldo. Quindi noi come sindacati, 14 dicembre 2023, protocolliamo una richiesta di incontro in prefettura, in cui già diciamo al comune di Teramo che il microclima è preoccupante all'interno delle strutture, e che questo può significare non solo un disservizio, ma problemi davvero gravi. Ci sono già tre persone che si sono sentite male dentro i niti, nelle giornate di giovedì, venerdì e ieri. Non è bastato purtroppo, perché dal 14 dicembre in ogni incontro, e in ogni incontro sia formale che informale, abbiamo ricordato al comune di mettere a norma quelle che sono le strutture. Purtroppo non è stato fatto nulla, abbiamo chiesto al comune, dato che eravamo arrivati a giugno e non si poteva ormai più fare nulla dal punto di vista strutturale, di trovare delle soluzioni alternative. Riduciamo il campus estivo, cerchiamo una soluzione alternativa, vediamo i niti che sono magari più refrigerati, quelli meno, nemmeno questo, e siamo arrivati ad oggi, in cui i niti sono chiusi, non sappiamo dopo venerdì che cosa succederà, perché è chiaro che poi se cerchiamo un'ordinanza di chiusura vuol dire che i niti lunedì mattina dovranno avere una modifica rispetto a ieri, perché altrimenti l'ordinanza non ha una giustificazione. Cosa ancora più grave, chiaramente, sono non solo i disservizi per i bambini, il pericolo per i bambini, ma i genitori, che non hanno avuto nessuna, chiaramente, preavviso, perché l'ordinanza è stata di ieri, che cosa succede? Chi li ristora? Hanno pagato le rette per un mese intero, quindi il mese di luglio. Che succede in questo caso? Anche perché un conto è un terremoto, un evento atmosferico straordinario, ma qui parliamo di ordinarietà ormai, che le temperature salivano sopra i 35 gradi. Chi è che non lo sapeva? Da mesi. E quindi ci chiediamo, ma questi disservizi chi li pagherà? Ma a questo, se già questa situazione è già precaria, diciamo già grave e vergognosa, dentro il Comune di Teramo, ce n'è un'altra che si aggiunge. Da un mese sono arrivate le valutazioni. Bene, le valutazioni del personale educativo e ausiliario sono state valutate negativamente rispetto al scorso anno. A livello oggettivo ci sono stati dei disservizi oggettivi oppure delle mancanze gravi. Chi non è andato a lavorare, un bambino si è fatto male, i genitori si sono lamentati. Nessuna di queste condizioni c'è stata, quindi che cosa dobbiamo presupporre? Che siccome abbiamo alzato la voce, allora c'è un atto vendicativo nei confronti del personale ausiliario educativo? No, punto di domanda, io lo chiedo. Magari spero di sbagliare. Abbiamo fatto una richiesta di incontro anche su questo, abbiamo fatto i ricorsi, ma ad oggi come un comportamento ormai abitudinario il Comunità Eramo non risponde.